Chissà quante volte vi siete chiesti quale fosse l'arcano significato di qualche frase in cinese. La scrittura cinese è stato il tema di una conferenza dell'Unitredi già retenutasi, come sempre, nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture. A condurla la dottoressa Caterina Rigano, laureata in lingue orientali all'Istituto Orientale di Napoli. La relatrice ha spiegato l'evoluzione della scrittura cinese e i suoi diversi tipi di caratteri. Rassegniamoci al fatto che in futuro occorrerà conoscere un po' di cinese, quasi una persona su cinque nel mondo è cinese. I cinesi sono un miliardo e 300 milioni, la lingua cinese è la lingua più parlata nel mondo. La usano 848 milioni di persone contro i 414 milioni che parlano inglese. Nel nord Italia il cinese è insegnato a scuola.